Se andiamo a vedere la statistica in Italia, per ogni 10 startup solo due diventano un'azienda di successo, quindi non è detto che tutte le startup diventino un'azienda di successo. Come promotore di una startup dovete accettare il rischio di perdere tutto, quindi un buon imprenditore non è un imprenditore a cui va sempre bene, un buon imprenditore è quello che è stato in grado di tagliare le perdite subito e lasciare correre i profitti, che è una massima della borsa, cut the losses soon and let the profit run, tagliate subito le attività che non funzionano, tenete conto che mediamente un'azienda di Information Technology per avere successo, lo capite da 1-3 anni, quando si è diventata 4 anni che l'azienda è in perdita o chiude in pareggio, c'è da stracere al naso, nel nostro settore, nel mio settore con le informazioni di borsa, io vedo che le aziende addirittura al tempo è inferiore, cioè o ci mettono uno o un anno e mezzo oppure conviene chiuderle perché non vado da nessuna parte. Qual è il succo del discorso? Il succo del discorso è che se un giorno mai sarete dei professionisti di Storia dell'Information Technology o dei piccoli imprenditori, bisogna ragionare come un ammiraglio che ha diverse corazzate, ha diversi incrociatori e sa che quando va in battaglia a fronte al nemico in mare aperto qualcuno di questi incrociatori, di queste cacciamine, di navi di medie dimensioni gli verrà affondato e lui dovrà essere bravo invece a combattere la battaglia con le navi che rimangono a galla. L'errore di solito che si fa è che io ho fatto i miei tempi, che adesso ovviamente non faccio più, è quello di affrontare il nemico in mare aperto con un'unica grande corazzata. Perché? Perché ovviamente se poi anche solo per sfortuna arriva il siluro nelle caldaie e la tua corazzata con la picco è che tu sei finito, sei game out, sei fuori. Quindi di solito il consiglio che io do ai miei figli, ma di solito i figli non scuotano mai il panno, quindi bisogna che mi rivolga i figli degli altri. E quello di non avere un'unica azienda è di avere almeno due o tre, sapendo che tanto una sicuramente se non due te le affonderanno, poi dopo quanto ne hanno affondate due, allora te ne è rimasta solo una, allora preoccupati di avere sempre la seconda in modo da fare il gioco del pilota, della macchina che ha due acceleratori e sa dove pigiare il pedale dell'acceleratore, perché ovviamente dopo non litighi più con nessuno. Se tu fai un ruolo essenziale, vitale e se fai il tuo mestiere, non avrai mai nessuno che ti porta in consiglio in assemblea dei soci e cerca di metterti in minoranza, perché ovviamente tu attacchi l'acceleratore dove ti conviene di più. E questo gioco è un gioco per il picco imprenditore assolutamente vitale, quindi non scoraggiatevi. Venture capital, ovviamente voi vedete, questo è un grafico del venture capital in billion, non sicuramente i milioni di dollari e voi vedete che il venture capital raggiunge il massimo quando c'è un boom di borsa, quindi nel 2000, no, negli US, beh, non so, allora è possibile che siano milioni, 120 milioni, no, questo è un ridicolo, un ridicolo, ho sbagliato. Comunque sta di fatto, voi vedete che in termini di andamento, quello che ci interessa, quando abbiamo un boom di borsa, 99-2000, come è stato sul finire del secolo scorso, voi vedete che c'è stato un boom apocalittico di operazioni di venture capital, perché? Perché quando la borsa corre è facile fare il venture capital e poi quotarsi immediatamente dopo in borsa e quindi massimizzare il rendimento. Ci sono due tipi di offerte, di azioni, c'è l'offerta primaria, sono le nuove azioni che vengono vendute per raccogliere liquidità, un po' come nell'immobiliare, ci sono le nuove case e quando viene costituita una società o una società esistente mette nuove azioni, c'è cosiddetta offerta primaria, vengono vendute delle azioni che sono state appena emesse, appena uscite dal forno, calde calde. Poi abbiamo l'offerta secondaria, invece che vengono vendute le azioni per liquidare l'investimento di azionisti esistenti. Quindi abbiamo in termini tecnico, offerta pubblica di sottoscrizione nel primo caso, cioè io sottoscrivo un aumento di capitale, un OPV, OPS, OPV, OPV, offerta pubblica di vendita di azioni già esistenti. Qual è il vantaggio della quotazione? Il vantaggio della quotazione l'abbiamo già visto nella prima lezione, i mercati finanziari offrono dei pressi che sono tradati pubblicamente, a cui tutti gli operatori contribuiscono, e quindi che hanno il vantaggio di riflettere il meglio possibile quella che era la realtà dell'economia, in base all'analisi delle informazioni e alle domande di acquisto e di offerta delle azioni. Quindi la quotazione permette la pubblicità del valore dell'azienda. Quali sono i vantaggi della quotazione? I vantaggi della quotazione sono, abbiamo visto, i vincoli burocratici, il fatto che avete degli auditors, il fatto che avete molto probabilmente degli investitori istituzionali che sanno fare i soci di minoranza e quindi rompono le scatole in un'assemblea dei soci, contestano il management dell'azienda. e ovviamente il management si sente controllato, da vicino, quindi non può fare delle porcherie, o almeno se le deve fare, le deve saper fare molto bene. Che cosa significa per i sottoscrittori? Il sottoscrittore significa avere delle competenze legali, anche loro, a comprare assistenza legale per poter interlocuire con il management. Significa fare per l'azienda un prospetto informativo, un report, oppure, come si dice, moral suasion sulla stampa, ce l'ha detto stampa, che chiama il giornalista, gli dici, dai, scrivimi un articolo bene sulla società che devo emettere delle azioni, che poi andiamo assieme a mangiare la pizza. in termini tecnici si chiama moral suasion, oppure andiamo a fare la presentazione, come ha fatto una notte azienda italiana, ha chiamato tutti i giornalisti, li ha caricati su un aereo, li ha portati a Dubai una settimana, perché l'ha fatto una conferenza stampa, quindi un modo, tra virgolette, per corrompere i giornalisti, facendogli fare un viaggio all'estero, una hotel a 5 stelle, tutto dorato, e fargli il giro del deserto sul cammello, e sperando che questo, ovviamente, scriva bene di questo viaggio, perché poi ovviamente durante il viaggio avevano prenotato un Boeing 747, c'era tutto il consiglio di amministrazione, poi si sanno che quando si viaggia cadono le distanze, cadono i rapporti, perché vedi l'amministratore delegato in piscina nell'hotel a Dubai mentre fa il bagno, vedi la moglie del consigliere di amministrazione mentre gioca a tennis, i bambini che saltano sulle tue tende nella camera da letto, perché non l'hanno scambiata con quella del papà che è presidente del consiglio di amministrazione, e quindi diventa tutta una grande famiglia e dopo si fa fatica a scrivere male del CDA. Si chiama moral suasion nei confronti della stampa. Quando c'è una quotazione, avviene di solito un cosiddetto road show, cioè gli amministratori della società vanno su diverse piazze finanziarie, organizzano le conferenze stampa e incontrano i potenziali sottoscrittori che vengono evitate di solito le banche di investimento, i fondi di investimento e discutono delle prospettive mirabolanti dell'azienda. Negli USA c'è anche il fenomeno del book building che è un impegno cavaleresco, o almeno si spera che sia cavaleresco, per cui in questa fase ci possono essere delle banche che assicurano il proprio interesse nell'acquisto di un pacchetto di azioni. Ovviamente è un impegno cavaleresco, nel senso che non sta scritto da nessuna parte, però di solito lo mantengono. Sentiamo una musica di sottofondo con uno studente ovviamente, cos'è Laura Anzano, che sentiamo una musica che è molto intensamente interessata a quello che sto dicendo, quindi giustamente ha acceso il giradischi. Underbooking e Green Show sono due fenomeni a cui vi rimando nel libro, perché sono delle cose molto sottili da studente di economia, come per esempio quello del best effort, o l'or none, sono cose, de facto, le modalità di impegno da parte del sottoscrittore istituzionale di acquistare un pacchetto di azioni, ancora prima della quotazione, quindi in fase di sottoscrizione, e ovviamente tenerselo in pancia fino a quando non verrà la quotazione ufficiale, quindi de facto assumersi un rischio che le azioni crollino in questo lasso di tempo, perché se io mi impegno a prendere le azioni a 10, 20 giorni prima, esiste un mercato che si chiama Grey Markets, praticamente sono quotazioni fatte ufficiosamente tra le banche, prima della quotazione ufficiale che avviene sul circuito di borsa, e se in questo periodo, diciamo, le azioni invece di 10 quotano 5, e poi quando apre la quotazione quotano 2, io de facto mi sono assunto il rischio di prenderla nei denti, e poi c'è lo spinning, una pratica così, ovviamente in fase di collocamento e di sottoscrizione, le banche comprano le azioni per rivenderle, e si pigliano una percentuale, questa percentuale va di solito 25% al sottoscrittore come banca a capofila, e 25% alle altre banche, se sono un consorzio, e il 50% alla retta di vendita, sono cose che a noi interessano relativamente, lo spread negli usi è molto alto, abbiamo visto che è circa il 7%, se ricordate vagamente, mentre state ascoltando la musica e mangiando un panino, in attesa del compito, avevamo mostrato un grafico, in precedenza, con le percentuali del costo di un'emissione obbligazionaria e di un'emissione di azioni, in questo quando avevamo parlato, dei dividendi, e del fatto che non esistessero alla nuova emissione costi di collocamento.